Sicuramente è un'iniziativa molto utile perché è un settore, quello green, molto nuovo in termini di investitori, di aziende che hanno bisogno di incontrarci e di accogliere capitali che è un momento tra l'altro particolarmente difficile, quindi questa iniziativa è un'iniziativa molto importante per tutto il settore, per noi come aziende e per la cultura anche degli investitori che non comprendono molto bene questo settore. Dire che siamo innovativi è una parola molto grande, in realtà come peculiarità direi che siamo un'azienda che ha un mix internazionale e anzitutto di paesi, poi abbiamo un mix di generazione non soltanto l'eolico ma il fotovoltaico e l'ambiente, quindi sicuramente poi abbiamo un'altra particolarità, quella di crescere per acquisizioni, quindi in maniera veloce, per cui siamo in meno di tre anni, siamo già oltre 300 mega installati in Europa e il nostro target è arrivare a un giga nel prossimo anno, anno e mezzo. Grazie 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 Grazie